Il 2020 è stato un anno terribile con la crisi pandemia che si è associata ai nostri vecchi problemi, alle crisi produttive, economiche che la nostra provincia che sta vivendo e tutt'oggi vive in maniera ancora più drammatica. Noi continueremo a stare vicino alle persone come abbiamo fatto all'inizio di questa crisi con i nostri servizi, con le nostre sedi aperte, ma in particolar modo cercheremo con l'unità del mondo del lavoro di riaprire un capitolo nuovo per la nostra provincia perché abbiamo tante risorse nella nostra manifattura d'eccellenza, risorse per il nostro ambiente, per il nostro territorio meraviglioso che può dare tante opportunità di lavoro e di riscatto. Con l'unità del mondo del lavoro, con l'unità di tutte le persone che dentro la CGL possono trovare non solo conforto e sostegno ma anche speranza di poter cambiare questa società ce la possiamo fare veramente.